Il riflusso gastroesofageo è una patologia, quindi una malattia molto frequente, soprattutto ai cambi di stagione o durante periodi di stress. Come curarlo? La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti irritanti, tipo troppi pomodori, troppi caffè, alcolici, superalcolici, agrumi, menta, cibi speziati, che possono creare più acidità e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro allo sterno, fino ad arrivare in bocca. Quando non passa con cambiamenti dello stile di vita, le persone di solito assumono dei farmaci da banco, i cosiddetti antiacidi. Nel momento in cui i sintomi però continuano a manifestarsi, è utile rivolgersi al medico curante.